intanto ho sistemato vabbè ragazzi un po il discorso dei piani di crescita li ho controllati ho visto chi era messo bene chi aveva bisogno che lo cambiassi di risparmio questa parte per non dilungarmi troppo contentissimo Boateng apprezzo il tuo impegno Jerome vabbè grandi ringraziamenti anche di Dani Mota continua a lavorare sodo Ferrarini anche lui tutti contenti devo dire siamo usciti dalla Coppa Italia ma grande festa a Monza ho fiducia in te perché comunque quando sei stato chiamato in casa hai fatto bene Sorrentino è contento di andare in prestito siamo d'accordo comunque bella bro via direi di proseguire spediti con il campionato con questa partita contro il Sassuolo visto anche che tra mercato supplementari e tutto è giusto tornare a giocare in campionato e siamo già in emergenza centrali è un centrale ragazzi proveremo a portarlo a casa chiunque esso sia probabilmente un altro vecchiaccio di 40 anni ma va portato a casa perché in questo momento vabbè giocherà Marlon ma non è al meglio anche a livello di terzini forse servirebbero i cambi più è vero che adesso sono tutti stanchi per la Coppa Italia che poi non avrò più visto che siamo usciti dalla competizione torna Cragno tra i pali anche giusto anche se Vaklik ha fatto davvero grandi cose quindi potrebbe anche scalzarlo prima o poi ma chi lo sa intanto ci portiamo anche Lasovic dietro esterni ne abbiamo forse un centrocampista difensivo dai portiamoci i caccari per il resto i titolari rimangono quelli e vediamo un po' partita da vincere contro il Sassuolo per continuare a sognare in grande loro li vedo anche abbastanza stanchi soprattutto i due esterni davanti ma sappiamo che questo conta fino a un certo punto va bene ragazzi concentrati concentrati questa non è la Coppa Italia non voglio entrare in campo come siamo entrati col Verona abbiamo subito due gol subito che poi ci hanno tagliato le gambe qui dobbiamo essere pronti sin da subito per farlo ovviamente ci sono i nostri titolari che tanto ci sono mancati in Coppa Italia tra cui Ogbonna e Sisoko subito numero qui di Traoré che mi fa capire che la stanchezza era solo una scusa ma c'è Ogbonna sulla sua strada allora può ripartire il Monza palla che arriva comunque da questa parte dove c'è Beruato che l'appoggia per Sisoko che prova a cambiare gioco da quella parte niente Caprari non ci arriva comunque sono belli infottati si è capito già da questi primi secondi dobbiamo stare concentrati mamma mia Traorema ha già rotto tre quarti io non dico cosa guarda la palla per Sisoko bella la palla dentro ancora per Bogat che provoca il pallonetto palla fuori ma che contropiede del Monza che bella questa azione tutta di prima qui sì sono stato un po' esoso perché questa se la piazzo probabilmente vabbè ho visto il portiere fuori volevo fare il gol dell'esaltazione con Bogat troppo golosi dai dai che soffrono i nostri contropiedi dai che palla dentro per Sisoko Sisoko che la piazza oddio sicuro che entrasse quale magia oscura ha fatto uscire questa palla madonna che due palle gol clamorose che ci mangiamo 25 minuti gran forcing del Sassuolo ma forse le occasioni più clamorose sono quelle del Monza che comunque io non riesco a capire perché cazzo Sisoko sta giocando il trequartista me lo dovete spiegare perché io prima ho controllato quando ho messo difensiva e Sisoko era al suo posto poi a una certa durante la partita finisce là hanno provato in tutti i modi a farcelo subire dovevamo subirlo non c'è un cazzo da fare qui tra l'altro c'è Beruatto davanti ma la palla passa lo stesso è lì e capisci che non puoi fare niente per impedirlo prova la gran botta da animota per rispondere ovviamente trova un grande consigli Sisoko ha ancora consigli ancora consigli la manca completamente Sisoko incomprensibile ce l'aveva sulla testa la palla è andata via ma c'è Marlon che insiste insiste Marlon insiste Marlon che vuole arrivare sul fondo e metterla in mezzo deve arrivare il difensore centrale e metterla in mezzo va bene ragazzi comunque non è stata una brutta prestazione il primo tempo continuiamo a crederci perché stiamo lottando contro forze superiori perché quando FIFA ci si mette sa essere irritante lo sappiamo dobbiamo essere più forti perché comunque le occasioni grandi anche le abbiamo avute e le abbiamo sprecate guarda guarda Traoré è di un irritante c'è la palla gliela rubi lui te la riporta via subito incredibile veramente sta partita più riesce a riconquistare palla più te la portano via guarda cosa vanno a fare guarda cosa vanno a fare qui poi Cragno me lo devi spiegare Vaklic lì ci arriva ho fatto dei cambi Lazetic Sensi e Lasovic guarda guarda quello guarda che era terra si è rialzato in un nanosecondo ma vabbè ma vaffanculo ma vaffanculo sto gioco ti irrita proprio nel profondo quando fa così traverse cose e non entra mai non entra mai chi cazzo metto chi cazzo metto che non c'è mai nessuno mettiamo cacari così a caso per dargli almeno un po' di minutaggio proviamo il tutto e per tutto formazione senza senso ma d'altronde proviamo l'ultra offensivo non riusciamo a non farci intercettare ogni passaggio orizzontale viene intercettato non ci credo non ci voglio credere non ci voglio credere cazzo riescono sempre a sbagliare la palla decisiva vabbè inutile questa partita potremmo andare avanti cent'anni che tanto non entra mai ho perso il conto delle situazioni sprecate nelle braccia i consigli chiudi 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 sta partita del cazzo è sempre colpa mia vai tranquillo che tanto è colpa mia abbiamo ricevuto una dura lezione tanta posta in arrivo reso conti in arrivo questo è troppo giovane non li guardiamo i giovani noi allora ragazzi proviamo proviamo a fare un tentativo per D'Ambrosio non sarà facile però secondo me dato che ci manca una riserva sia come centrale che come terzino D'Ambrosio potrebbe avere senso il problema è che noi non abbiamo soldi quindi dobbiamo provare a capire se o con qualche contropartita o in qualche modo magari riusciamo comunque a sbloccare la trattativa non ho idea di quanto possa costare ma per non stare lì ad aspettare l'osservazione noi ci proviamo non sarebbe male non sarebbe male non abbiamo granché da poter dare se non il solito bondo che proviamo a buttare dentro più pochi spiccioli secondo me sarà dura che accetteranno anzi ci manderanno a cagare subito ma proviamoci niente da fare bondo non interessa neanche a sua madre hanno bisogno di tempo ma la sensazione è che non riusciremo purtroppo peccato perché è un profilo credibile perché ha 34 anni comunque lui è basato a Milano si fa l'ultima esperienza al Monza sarebbe perfetto purtroppo non è facile perché siamo abbastanza senza soldi ci sarebbe Danilo che sa fare anche il centrale ma immagino costi anche di più al Milan ha ceduto gabbia così va bene ragazzi iniziamo a capire cosa ci risponderanno per D'Ambrose vediamo attenzione l'Ajax vuole in prestito di Gregorio io gli toglierei il diritto di riscatto ma proverei a darglielo proverei a darglielo perché almeno gioca senza diritto tutto qui il valore che ha mi dà l'idea di poter diventare veramente forte quindi io non lo darei a titolo definitivo però ha bisogno di giocare allora ragazzi intanto l'Inter non accetta l'offerta per D'Ambrosio quindi intanto però c'è la crescita di Esposito vediamo un attimo se con il cambio ruolo rimane così però forse perché ha già fatto da 68 a 69 capiamo adesso se comunque continuando a fare sto giochino riusciamo a farlo crescere ulteriormente proviamolo anche come trequartista tra quattro settimane vediamo un po' come va allora ragazzi è arrivata anche un'offerta per Kakari Kakari o come vogliamo chiamarlo dato che Bondo è rimasto fin qui io direi di accettare dato che è un prestito un prestito breve alla fine gli permetterebbe di giocare vorrei anche lui tenermelo per il futuro perché secondo me ci si può puntare come vice Sissoko anche più di Bondo però per questa stagione io terrei Bondo a questo punto intanto proviamo a vedere se riusciamo appunto a dare minutaggio in questo modo a Kakari direi che per le altre cose adesso guardiamo ancora un attimino se arriva qualcosa se c'è qualche novità dopodiché rimanderei in realtà la prossima partita al prossimo episodio intanto Alexandro è in scadenza però City e Dortmund gli stanno offrendo un precontratto quindi direi che non è realistico poi noi abbiamo già preso Marco Salonso per la prossima stagione che secondo me è un buon colpo parametro zero può fare due ruoli centrale sinistro terzino sinistro attenzione c'è Di Gregorio che intanto andrà all'Ajax in prestito senza diritto di riscatto quindi ce lo teniamo ben stretto però almeno mi permetterà di giostrarmi i due portieri che ho e lui lo facciamo crescere e per il futuro sicuramente è un'opzione proviamo a vedere intanto se per caso arriva qualche offertina qualcosa che possa smuovere un po' il mercato c'è l'accordo anche per Kakari quindi comunque stiamo facendo tante operazioni in uscita e anche diciamo per il futuro visto che sono prestiti abbiamo fatto dei parametri zero in inizio puntata adesso è arrivata anche l'offerta per Dani Mota nello sporting di Lisbona tra l'altro portoghese sarebbe anche credibile come meta però non me la sento tanto io sinceramente di accettare è vero che sono 15 milioni una società come il Monza deve drizzare le orecchie se riarriva un'offerta da 15 milioni però in questo momento abbiamo l'Asetic che non è non può in questo momento essere già il titolare non è non è molto credibile vorrebbe dire andare ancora sul mercato vendere comunque un idolo della tifoseria un uomo simbolo di questo nostro momento e quindi sinceramente io direi anche di no ragazzi adesso torniamo qua senza neanche vedere che alternative ci dà il mercato direi che non ha senso per una carriera credibile in questo momento dare via il nostro bomber quindi Dani Mota resta qui se ne potrebbe parlare al massimo a fine stagione ma non adesso e poi comunque un giocatore storico di questa squadra va bene ragazzi giusto ultimo giro nel lab di mercato per capire chi potremmo nel caso andare a tastare ragazzi consigliate ovviamente dei nomi ve lo dico sempre alcuni di voi lo fanno e vi ringrazio perché sicuramente ci serve un giocatore magari esperto che possa venire via a pochi spiccioli e che potrebbe andare a colmare il vuoto che c'è in difesa perché siamo davvero molto molto tirati è vero che adesso non c'è neanche più la Coppa Italia c'è una competizione sola potremmo farcela ma basta un infortunio basta una squalifica per dire la prossima di campionato è squalifica Tocbonna che già siamo davvero tanto tirati quindi aspetto i vostri consigli ragazzi vi ringrazio di essere stati con me in questa puntata nervosa perché mi ha davvero innervosito soprattutto la partita col Sassuolo quindi direi di lasciar perdere di lasciare questa parentesi a questa puntata e di partire di provare a ripartire più forte alla prossima abbiamo già l'occasione di rifarci col Verone quindi speriamo che vendetta sia ciao a tutti ragazzi ciao a tutti